Enrico complimenti, mi sembri l'Enrico Battaglin formato Zalf, versione vincente, 360 giorni l'anno. Sì, diciamo ho ritrovato il colpo di pedale giusto, ecco il Giro d'Italia ha iniziato molto bene per me da martedì, ho vinto alla grande a Sarasambruno, ieri mi sono riconformato e andiamo avanti così. E tu corri senza paura anche con la pioggia? Ma sì, diciamo che non è il mio tempo preferito, però se sto bene con i primi ci arrivo, adesso vediamo insomma, oggi speriamo di non prendere acqua anche se il tempo è un po' incerto e poi vedremo nei prossimi giorni. C'è chi ti pronostica vincitore addirittura di una tappa di montagna? Beh, sarà un po' difficile, penso che posso ancora fare bene in qualche altra tappa, vediamo insomma, vediamo quante forze avrò, come si mettono le corse, ecco. Una dedica a Deda Elementi che ti fornisce manubrio e attacco? Sì, li ringrazio perché comunque tutti i nostri sponsor tecnici ci aiutano alle nostre performance e con i loro attacchi e manubri mi sono trovato subito bene, io opto per un 0-100 curva anatomica e mi trovo bene, sia per fare le volate che per le lunghe salite.